Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Fragabile! Grazie amo, mi sono rinfrescata. Fa caldo eh! Ok raga, mi vedete? Fragola devi ricollare? No, no, no. Quanti col dai? 650. Fingali. Finga, finga fraga! Mezzo di merda! Guarda che ero prossimo! Io ho tanto! Ok, 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 smart move, smart move, vabbè. Ok, smart move, sono un coglione secondo te. Il collo per comprare quell'item. Vabbè, io intanto io rubo la giungla. Oh no, f***. It's fine, it's fine, don't worry about it. It's fine, don't worry. It's fine. He's just cropping, he's air cropping, he's doing the crops, you know? He's making sure that they're not, you know, there's no bugs. Ok? Nice. Ah f***! I can survive, yeah. Ok, ok. Ok, ok. Oh. Careful. Careful. Oh! No! No! Ahhhhh! No! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.